troviamo questo strumento che è il plotter, una volta acceso si clicca su carta, ovviamente touch e qui appariranno tutte le informazioni della carta nautica, possiamo zoomare oppure togliere lo zoom per avere più o meno dettagli, eventualmente qui sono già delle informazioni quindi la profondità, la velocità della barca, l'ora ed eventualmente l'eta del waypoint, cliccando invece su questo tasto si aziona questa piccola finestra che ci può far azionare o meno l'autopilota, una volta fatto questo si aziona, si danno più o meno gradi a seconda di quello che si vuole fare, disattiva per toglierlo, cliccando invece qui lo scorrimento una volta soltanto si aziona la modalità notte o la modalità giorno, utilizzando questa barra di scorrimento si potrà abbassare o alzare la luminosità.